Oggi parleremo di un argomento abbastanza vasto, la febbre di origine sconosciuta, in particolare quale deve essere l'approccio diagnostico ad un paziente che si presenta con una febbre prolungata di NDD. In particolare per febbre di origine sconosciuta si intende uno stato febbrile prolungato senza uneziologia stabilita, nonostante varie indagini diagnostiche sia laboratoristiche che radiologiche eseguite. Tra le varie definizioni che sono in uso tra le varie linee guida, quella più accreditata è la definizione di fuo come febbre maggiore uguale di 38.3 gradi che perdura da almeno tre settimane senza che sia stata riconosciuta a una causa estiologica dopo una settimana di valutazione ospedalista. Le cause di febbre di origine sconosciuta possono essere diverse e in generale sono classificate in quattro categorie. Infettive, che ad oggi rappresentano circa il 16% di cause di fuo, malattie del connettivo 22%, neoplastiche 7% e varie che vedremo dopo che rappresentano circa il 4%. Dato interessante è che con gli anni è aumentato il numero di fuo a cui non viene poi data una definizione diagnostica e in particolare ad oggi in circa il 50% dei casi di fuo non viene identificata alcuna causa ed è un dato che è in netto incremento rispetto al passato. In particolare, dei dati che risalgono al 1950 si è passato dal 10% al 50% odierno. Tuttavia, la maggior parte dei pazienti che presentano uno stato febbrile che rimane sconosciuto hanno comunque una buona aproniosi. Tra le cause infettive risultano essere le più comuni cause di fuo, la TBC e gli ascessi. Per quanto riguarda la stratificazione in età, sicuramente le collagenopatie risultano essere più frequenti nei giovani adulti la malattia di SIL e l'arterite a cellule giganti negli anziani. Tra le cause infettive noi possiamo citare ascessi, addominali, pelvici o dentali, malattie da graffio di gatto, infezioni quali cetomegalovirus e IBV-HIV, endocardite batterica, malattia di Lyme, ostomielite, sinusite, TBC polmonare o disseminata e altre infezioni non comuni, quale brucellosi, malaria, frebbe Q, toxoprasmosi, trichinosi, febbre tibia. Tra le malattie infiammatorie sistemiche, tutte le collagenopatie, le vasculiti, quindi citiamo arterite temporale a cellule gigante, poliarterite nodosa, polimialgia reumatica, artrite reattive, artrite reumatoide, les, altri tipi di vasculiti, le malattie infiammatorie croniche intestinale, la sarcoidone. Tra quelle neoplastiche, principalmente cause di fura sono rappresentate dal carcinoma del colon, dal carcinoma ipatocellulare o ad altri tumori metastatici del fegato e dal linfoma, in particolare linfoma non-hotking. Altre cause possono essere rappresentate dalle eucemie, in particolare miloide acuta, da sarcoma di caposi, dal carcinoma polmonare, da malattie mieloploriferative, da carcinoma a cellule renali. Tra le varie si può citare la febbre da farmaci, esempio da antibiotici, penicilline e sulfonamidi, da antimalarici, da vancomicina, da nitrofurantoina, da fenitoina, da barbiturici e da fans. La febbre cosiddetta fittizia, che viene presa in considerazione come diagnosi di esclusione, febbre di tipo familiare mediterranea, che hanno una causa quindi di predisposizione genetica, tiroidite, il tromboembolismo venoso, alterazioni dei sistemi di termoregolazione e in particolare alterazioni del sistema nervoso centrale, sindrome neurolettica maligna, sindrome della fatica cronica. Quale deve essere l'approccio diagnostico a un paziente che si presenta con fuo? Allora, innanzitutto andiamo a fare una curata anamnesi farmacologica, che deve comprendere tutte le domande riguardo agli specifici farmaci noti come possibile causa di febbre. L'anamnesi familiare deve comprendere domande volte alla ricerca di cause ereditarie di febbre. Abitudini e stili di vita devono essere indagate per orientarci verso la diagnosi, quindi al paziente dovrà essere chiesto se fa abuso di alcol, uso di droghe, nei casi sospetti andrà chiesto se sono presenti rapporti sessuali a rischio, viaggi soprattutto in zone endemiche, esposizioni a vettori animali o insetti in caso di dubbio di patologie infettive rare, anamnesi tabagica, esposizione occupazionale ad agenti chimici. L'anamnesi patologica remota, quindi andare a indagare patologie o fattori che predispongono ad infezioni. Esempio, se siamo davanti a un paziente immunocompromesso, quindi un paziente che può andare incontro a infezioni da opportunisti, quindi andiamo a valutare se un paziente è HIV positivo, è affetto da una neoplasia, è affetto da diabete mellito, fa uso di immunosoppressori. Pazienti che possono essere a rischio di vari tipi di infezioni, quindi pazienti che presentano anomalie del tratto urinario che saranno soggetti ad infezioni delle vie urinarie correnti, interventi chirurgici recenti, in particolare a livello addominale, quindi che possono per esempio porre il sospetto di una complicanza e quindi la presenza di ascessi addominali, presenza di dispositivi medici, in particolare pacemaker, portatore di valvole aortiche, in particolare in recenti interventi, portatore di un cateterismo venoso o permanenza o di cateteri urinari a permanenza. Durata e andamento della febbre. Di solito l'andamento della febbre ha scarso o nessun significato per la diagnosi di fuo, tranne ovviamente per casi eccezionali, quei casi in cui l'andamento della febbre è tipico, per esempio una febbre tipicamente terzana o quartana associato a fattori di rischio, per esempio un viaggio in zone endemiche, può portare ovviamente al sospetto di malaria. Andiamo a ricercare anche quelli che vengono comunemente definiti sintomi specifici, ma che comunque possono indirizzarci verso una diagnosi. Quindi andando a valutare il paziente anche da un punto di vista obiettivo, possiamo vedere se è un paziente cacchettico, se è un paziente iterico, dobbiamo chiedere se negli ultimi periodi ha un'iporessia, un'astenia, una perdita di peso che ovviamente ci può indirizzare verso una patologia neoplastica, se sono presenti mialgie, artralgie, manifestazioni cutanee ovviamente visibili all'esame obiettivo, diarrea, nausea, vomito e da quando è la comparsa di tutti questi sintomi. L'esame obiettivo deve essere fatto in maniera molto accurata, nonostante sia stato fatto magari da colleghi precedenti, deve essere ripetuto in modo da evidenziare magari delle alterazioni non presenti nell'esame obiettivo precedente. Quindi deve essere un esame obiettivo in toto che oltre ad andare a valutare le principali sedi, quale torace, addome, arti inferiori, presenza non presenza di edemi, presenza non presenza di discromio, di alterazioni cutanee, deve andare a indagare anche quella che può essere la presenza di alterazioni cutanee come eritemi cutani, ulcere, ricerca anche di linfadenomegalie, palpazione di ossa e percussione di ossa per vedere e valutare l'eventuale dolorabilità e valutare l'alterazione a livello dei distretti articolari. Tutto questo ovviamente ci permette di indirezzare la nostra diagnosi verso una delle precedenti classificazioni, quindi verso una patologia per esempio del distretto neuromuscolare, una collagenopatia. talvolta i disturbi però nei pazienti con fuo si presentano in maniera sfumata, quindi è necessario ripetere più volte l'esame obiettivo per poter identificare la causa. In particolare quello a cui noi dobbiamo prestare attenzione è quando abbiamo davanti un paziente immunocompromesso che quindi ha la possibilità di contrarre infezioni da germi opportunisti, dopo un riscontro di un soffio cardiaco nonotto che potrebbe soprattutto in presenza di protesi valvolari, quindi di dispositivi medici, orientarci verso un'endocardite e in pazienti con storia di recenti viaggi in aree endemiche. Quindi tutte queste informazioni cliniche associati a un ottimo esame obiettivo servono a restringere le possibilità diagnostiche e a guidare le indagini successive. Per esempio, se io ho un disturbo addominale o pelvico, di solito un dolore che si manifesta e si accentua alla palpazione, magari riscontrando anche una massa a livello pelvico in un recente intervento chirurgico, in un trauma, una di verticolosi, una peritonite o una procedura ginecologica, quello che io devo sospettare è che ci sia una massa, una complicanza di tutti questi eventi, quindi verosimilmente un'ipotesi può essere anche la presenza di un ascesso che viene visto come il focus principale di origine della fuo. Quindi quello che dovrà portarmi come approfondimento diagnostico è andare a richiedere un'attacca o una risonanza magnetica. Se io sospetto un'endocardite infettiva, per esempio, io la posso sospettare quando ho un'anamnesi positiva per fattori di rischio, quindi io sono andata a valutare che il paziente ha una valvola cardiaca protesica, oppure una malattia cardiaca congenica, oppure ha una malattia paradontale, o una presenza di catetere endovenoso, oppure fa uso di farmaci per via endovenosa e vado ad ascoltare un soffio cardiaco che non era presente magari all'esame obiettivo precedente, anche di qualche settimana prima, e vado a vedere magari anche alcune manifestazioni cutanee tipiche come pettecchie, macchie di Roth, noduli di Osler, e vado a valutare la presenza di dolore o versamento articolare, la presenza di splenomegalia magari associato a dolore a livello della palpazione dell'ipocondrio sinistro, devo andare a pensare che la mia origine di fuo sia imputabile a un'endocardite infettiva. Quindi quello che devo fare è sicuramente inviare come primo livello colture ematiche ripetute in assenza, se possibile, di antibiotico-terapia, quindi devono essere colture ematiche pulite, e andare a richiedere un'ecocardiografia transtoracica, e se il dubbio è forte, ovviamente transesofagea. Febbre da farmaci. Quando è che, per esempio, vi prendiamo in considerazione in questa slide due tipi di febbre che rientrano nelle altre cause di fuo, ma che poi non sono neanche così rare. Per esempio, io sospetto una febbre da farmaci quando ho una febbre che coincide con la somministrazione di un farmaco, quindi che insorge entro 7-10 giorni e nel 25% dei casi è associato a un rash cutaneo. Ovviamente, in questo caso, la prima cosa che devo fare prima di qualsiasi tipo di approccio terapeutico o ulteriori indagini diagnostiche è sospendere il farmaco. Un'altra febbre che poi non è così rara, che può essere presa come diagnosi di esclusione, è la cosiddetta febbre fittizia. C'è una presentazione teatrale ed atipica con sintomi conditi da dettagli vaghi ed incoerenti o descrizione dei sintomi in base ad una conoscenza presa dalle descrizioni dei libri di testo. Abitudine a mentire, quindi sostanzialmente impazienti che hanno anche alla base disturbi psichiatrici. E questo può essere preso in considerazione quando effettivamente da un punto di vista culturale, sierologico, laboratoristico e radiologico non risulta niente andando a valutare quindi quello che è l'aspetto psichico del paziente e si potrebbe anche in questi pazienti andare a valutare se effettivamente la febbre coesiste oppure no andando a fare quelle che in reparto vengono definite misurazioni a vista della temperatura. Una volta che noi abbiamo inquadrato il nostro paziente da un punto di vista diciamo clinico quindi ripetendo, facendo un esame obiettivo e un'anamnesi precedente andiamo a richiedere degli esami di primo livello sicuramente emocromo con formula VES e PCR quindi indici di frogosi normalmente vengono richiesti come vengono richiesti nel sospetto comunque di indagare un'infezione delle vie urinarie ovviamente associato a dei sintomi quali possono essere disuria, stranguria andiamo a chiedere un esame chimico-fisico-urinario ed eventualmente un'urocoltura l'RX torace normalmente viene richiesto nel caso ci sia un'ipotesi infettiva associata anche a una sintomatologia clinica e gli indici di funzionalità epatica in una mini routine che viene normalmente richiesto al paziente una volta che accede in PS ma anche durante il ricovero se alterati ovviamente devono portarci ad indagare tutti quelli che possono essere i sierologici per virus epatotropici questo anche ovviamente se sono presenti linfoadenomegalie questo ci porta per esempio ad andare a valutare alterazioni anche da un punto di vista ematologico quindi andando magari in prima battuta a richiedere un'elettroforesi delle sieroproteine che normalmente non viene fatta di routine a tutti i pazienti ricoverati sierologie varie di altri tipi quindi più specifiche vengono fatte e richieste solo se il paziente denuncia viaggi in posti endemici oppure esposizione ad animali o vettori particolari insetti se nell'anamnesi ha per esempio una puntura di insetto allora andiamo a richiedere le sierologie specifiche oppure se c'è il dubbio da un punto di vista anamnestico di una collagenopatia perché il paziente riferisce questa febbre associata ad artralgie a amialgia allora possiamo andare a richiedere ovviamente se non ci saltiamo fuori con tutti gli altri esami la batteria dell'autoimmunità gli esami di secondo livello non devono essere chiesti subito cioè quello che dobbiamo capire è che non si deve chiedere tutto subito per cercare di capire perché fondamentalmente si è visto che questo non serve a niente quindi quello che ci deve orientare subito è il sospetto clinico quindi in base al sospetto clinico in base che già comunque orienta gli esami di primo livello noi chiediamo gli esami di secondo livello che sono TAC, addome, torace ecocardiografia nel sospetto biandetto di un'endocardite la PET proprio se non riusciamo a capire quale è il focolaio infettivo o comunque se c'è un focolaio infettivo la PET è un buono strumento per permetterci di localizzare tramite l'ipercaptazione un verosimile focolaio infettivo o un focolaio di altra origine che può creare e dare questa fuo una volta si usava la scintigrafia alle ocociti marcati adesso ormai in disuso nel sospetto di una fuo per esempio da TEV oltre un angiotac toracica si può andare a fare un ecocolor doppler venoso perché anche la trombosi può accompagnarsi a febbre se il sospetto ovviamente ci orienta verso patologie del sistema nervoso centrale andremo a fare delle indagini mirate quindi rachicentesi TAC cerebrale a volte anche risonanza magnetica cerebrale e ovviamente biopsie nel caso io sospetti una malattia linfomatosa o granulomi quindi posso fare una biopsia linfonodale posso fare una BOM posso fare una biopsia di una lesione epatica quindi anche in questo fortemente supportati dal sospetto clinico quindi quello che noi dobbiamo fare è che dobbiamo tenere presente che la valutazione deve basarsi sulla sintesi di anamnesi ed esame obiettivo con particolare attenzione a tutti quelli che sono i fattori di rischio e le cause probabili legate alle abitudini di vita specifica del paziente il trattamento il trattamento precoce esempio agire subito con antibiotici o glucocorticoide spesso a parte non avere dei risvolti da un punto di vista di soluzione clinica spesso non permette neanche di arrivare ad una diagnosi per esempio l'uso di antibiotici su base empirica che viene magari iniziato quando un paziente dopo per esempio tre giorni presenta febbre può celare la diagnosi di ascessi occulti o impedire l'isolamento di germi esempio nelle endocarditi oppure incrementare i casi di febbre da farmaci e questo ha l'importanza di cercare di mandare emoculture pulite quindi prima di iniziare qualsiasi tipo di antibiotico terapia come anche le uroculture l'uso di immunosoppressori inoltre che possono essere utilizzati in un sospetto clinico può esporre a reazioni averse ai farmaci ed incrementare l'incidenza di germi multiresistenti se noi siamo per esempio in presenza di una febbre che ripottiamo per esempio una febbre di tipo centrale che non risponde agli antiepiretici oppure pensiamo a una patologia infiammatoria cronica una collagenopatia l'utilizzo di cortisonici per un qualsiasi processo infiammatorio in realtà potrebbe portare a mascherare quella che potrebbe essere una diagnosi per esempio di vasculite di sarcoitosi e nel caso noi sospettassimo la sarcoideosi stessa oppure di una patologia ematologica va a rendere praticamente le biopsie non diagnostiche la terapia va incentrata quindi quando possibile sulla patologia di base rilevata o quantomeno la patologia fortemente sospetta dopo aver fatto tutto quello detto in precedenza anche l'uso di antipiretici va valutato con prudenza perché è vero che da un lato riduce la fatica riduce comunque il senso di astenia quindi da un punto di vista diciamo clinico dà sicuramente un sollievo soprattutto in determinate categorie di pazienti ma dall'altro può mascherare segni sintomi che sono importanti per arrivare ad una diagnosi grazie a tutti